A parte Maurizio Crozza che riesce con la sua comicità di stampo ligura a mettere tutti d'accordo, la trasmissione Ballarò ha qualcosa di irritante, forse dovuto alla mancanza di fantasia della sua redazione, capace di invitare anno dopo anno gli stessi politicanti o quasi facce ormai impresentabili, o giornalisti indolori, cioè che non provocano problemi, forse con il timore di non essere più invitati. Nella puntata di martedì 8 febbraio si sono affrontati principalmente due temi, l'articolo 18 Statuto dei Lavoratori e il tema dell'emergenza neve. Mi occuperò di entrambi, sia pure in puntate diverse. Articolo 18 Molti ascoltatori di Ballarò ancora si domandano perché tanto accanimento nel volerlo abolire. Cosa si vuole raggiungere? Non certo la possibilità di licenziare perché già esiste per la piccola e media industria. E allora si vuole raggiungere la grande fabbrica dove ci sono molti salariati in grado di tenere assemblee, discutere, farsi rappresentare, esercitare forme di lotta. Lì si vuole colpire. D'altra parte è un fatto scontato perché risale ai primordi dell'industrializzazione. A metà ottocento contadini che fino allora avevano lavorato in totale isolamento si trovavano improvvisamente in fabbrica a contatto con altri che avevano le loro stesse esigenze. Da qui la possibilità di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre il livello di sfruttamento e così via. La stessa cosa la si vuole ottenere oggi. Seminare paura di essere licenziati per trasformare i lavoratori in una sorta di massa pecorile acquiescente. Questo deve essere chiaro. Tutti devono capire chiaramente qual è la posta in gioco. Il padronato mai avrebbe usato tanto, fino a qualche anno fa. Adesso non ha più freni. Dopo il berlusconismo è alla conquista di nuove tappe. Sta al grosso dei cittadini impedire che ciò avvenga. La prossima puntata la dedicherò all'emergenza neve. La prossima puntata la dedicherò all'emergenza neve.